oggi parliamo di le rubriche di eduradio per il carcere e la città scienza in una stanza con federico tibone piccole esperienze per scoprire qualcosa sul mondo e su noi stessi benvenute e benvenuti a questa puntata di scienza in una stanza in onda per eduradio e tv su radio città fujico 103.1 fm su l'epidatv canale 118 oggi inizieremo con un'esperienza molto semplice prendete un fazzolettino di carta o qualunque altro pezzo di carta più leggera e meglio e strappatene qualche pezzettino piccolo come piccoli coriandoli metteteli sul tavolo poi prendete un oggetto di plastica per esempio una penna biro tenetela da un'estremità e avvicinate l'altra estremità a pochi millimetri dalla carta passatela sopra i pezzetti di carta e vedrete che non succede nulla poi prendete un qualsiasi indumento di lana però e strofinate l'altra estremità della penna sulla lana tre o quattro volte se adesso riavvicinate la penna alla carta vedrete che è cambiato qualcosa adesso i pezzetti di carta vengono attratti verso la penna quindi lo strofinamento della plastica sulla lana ha cambiato le proprietà della plastica si dice che ha elettrizzato la plastica perché adesso la penna esercita sulla carta una forza sollevandola e questa forza è di tipo elettrico se provate a fare la stessa cosa con un oggetto metallico per esempio una posata scoprirete che per quanto la strofinata e sulla lana quando l'avvicinate il metallo alla carta non succede niente il metallo quindi non si elettrizza come la plastica nei prossimi minuti scopriremo che questa proprietà della plastica di elettrizzarsi ha a che fare niente di meno che con la struttura degli atomi di cui è fatta tutta la materia ma ci arriveremo per gradi l'elettricità è qualcosa con cui abbiamo a che fare tutti i giorni siamo circondati da parecchi elettrici adesso vorrei chiedervi un grosso sforzo di immaginazione e chiedervi di provare a immaginare di non avere la corrente elettrica disponibile non avete lampadine che si accendono quando permette l'interruttore non avete gli elettrodomestici nessuna lavatrice la radio la televisione non funzionano non esistono il fondo a microonde insomma immaginate di non avere nulla di tutto questo la vita sarebbe un po meno comoda beh questa era la vita dei nonni dei nostri bisnonni che non avevano la corrente elettrica il primo generatore di tensione elettrica che ha reso possibile l'uso della corrente che facciamo oggi è stato costruito nell'anno 1800 da alessandro volta a como ma poi c'è voluto un secolo perché si riuscisse ad applicare questa invenzione alla vita quotidiana all'uso nelle case quindi fino all'inizio del novecento le persone non avevano la corrente elettrica in casa è curioso se ci pensate che la nostra specie esiste da circa 250 mila anni che corrispondono a diecimila generazioni ed è soltanto nelle ultime cinque generazioni che abbiamo avuto a disposizione la corrente elettrica quindi siamo ben fortunati a essere nati in questo periodo anziché nei millenni precedenti però nell'antichità le persone si erano già accorte di questa forza elettrica che abbiamo osservato nella nostra esperienza con la penna e la carta in passato la plastica non esisteva però esisteva l'ambra prodotta dalle piante che fanno colare sul tronco della resina per difendersi dai parassiti questa resina quando solidifica diventa ambra cioè questa bella sostanza gialla trasparente che fin dall'antichità è stata usata in gioielleria come oggetto ornamentale ebbene già nell'antichità i nostri antenati si erano accorti che l'ambra si comporta come la plastica della nostra esperienza cioè se la si strofina sulla pelliccia di un animale e poi la si avvicina a oggetti leggeri come possono essere foglioline nel nostro caso pezzetti di carta l'ambra li solleva li attrae verso di sé e siccome in greco antico ambra si diceva electron da lì è derivata la nostra parola elettricità l'ambra tra l'altro è anche preziosa per gli scienziati che studiano l'evoluzione della vita perché la resina prodotta dagli alberi scendendo lunghi tronchi a volte imprigionava piccoli animali che rimanevano poi intatti dentro l'ambra anche per milioni di anni e quindi trovando vecchi pezzi di ambra si è scoperto come erano fatti organismi che oggi non ci sono più e che vivevano nel lontano passato sulla terra sperimentando però si è scoperto che in realtà esistono due diversi tipi di elettricità e voi potete convincere se avete sotto mano per esempio un rotolo di carta di pellicola da cucina se strappate un pezzo di questa pellicola che è fatta di plastica mentre la srotolate questa pellicola si strofina sul sul rotolo e si carica di elettricità si elettrizza se prendete due fogli di pellicola la cucina estratte in questo modo e li avvicinate vedrete che tra loro si respingono però se a uno di questi due fogli invece avvicinate un pezzo di ambra elettrizzata e se non avete l'ambra potete provare per esempio con una bottiglietta di vetro elettrizzare il collo della bottiglietta di vetro e avvicinarla a un foglio di pellicola da cucina vedrete che in quel caso invece i due si attraggono quindi le forze elettriche possono far attrarre gli oggetti tra loro oppure farli respingere per tradizione si dice che l'ambra o il vetro quando sono elettrizzati hanno carica elettrica positiva più mentre la plastica quando si carica di elettricità a carica negativa meno e la regola generale è che le cariche dello stesso tipo più con più meno con meno si respingono le cariche di tipo opposto più con meno invece si attraggono un po come avviene con le persone spesso vanno più d'accordo le persone molto diverse tra loro che quelle che sono troppo simili ma che cosa c'entra tutto questo con gli atomi adesso lo scopriamo l'idea degli atomi risale a un pensatore greco di 2500 anni fa che si chiamava democrito democrito è vissuto in un'epoca in cui l'idea più brillante che era venuta sulla composizione della materia era che le sostanze le diverse sostanze fossero fatte da combinazioni diverse di quattro elementi fondamentali terra aria acqua e fuoco che gli uomini già allora conoscevano molto bene questa idea in realtà si è rivelata sbagliata non ha portato a nulla nell'evoluzione della scienza democrito ebbe un'intuizione straordinaria lui disse se io prendo una un pezzo di una sostanza e la divido in parti sempre più piccole a un certo punto arriverò a non riuscire a dividerla più e arriverò a quelli che sono gli atomi di quella sostanza che sono diversi dagli atomi delle altre sostanze questa intuizione era straordinaria perché democrito non aveva nessuna prova nessuna evidenza a sostegno di quest'idea ma la sua intuizione si è rivelata giusta più di 2000 anni dopo democrito gli scienziati hanno scoperto che effettivamente tutta la materia è fatta di un centinaio di tipi diversi di atomi l'unica differenza rispetto a quello che aveva pensato democrito e che si è scoperto che gli atomi non sono indivisibili come lui pensava la parola atom in greco vuol dire proprio non divisibile ma gli atomi hanno una struttura interna sono fatti di particelle più piccole e tutti gli atomi delle diverse sostanze quelle che oggi chiamiamo i diversi elementi chimici hanno una proprietà comune hanno un nucleo centrale piccolissimo che ha carica elettrica positiva e intorno gli svolazzano gli orbitano tante particelle chiamate elettroni ciascuna delle quali ha una carica elettrica negativa ed è proprio la trazione elettrica tra meno e più a tenere insieme gli atomi e tutta la materia che ci circonda in più in tutti gli atomi la carica elettrica totale negativa degli elettroni è esattamente uguale opposta alla carica elettrica positiva del nucleo perciò nel complesso gli atomi non hanno carica elettrica la loro carica totale zero e questa è la ragione per cui normalmente in natura non vediamo in azione forze elettriche ma che cosa succede in situazioni come il nostro esperimento con lo strofinamento sulla lana quando si strofina la plastica sulla lana alcuni degli elettroni degli atomi della lana si trasferiscono alla plastica come conseguenza dello strofinio e così la plastica ha un eccesso di cariche negative ed è elettrizzata viceversa quando il vetro o l'ambra vengono strofinati sulla lana elettroni dei loro atomi si trasferiscono alla lana vengono strappati dallo strofinamento per cui sulla sul vetro sull'ambra resta un eccesso di cariche positive ma per quale ragione invece gli oggetti di metallo non si elettrizzano la ragione che dal punto di vista del comportamento elettrico esistono due tipi di sostanze ci sono le sostanze che chiamiamo isolanti elettrici come la plastica l'ambra o il vetro che sono tali per cui quando si trovano ad avere della carica elettrica in eccesso queste cariche non possono muoversi all'interno della sostanza e quindi restano dove si trovano accumulate come carica elettrica invece esistono altre sostanze come tutti i metalli che chiamiamo conduttori elettrici in cui gli elettroni degli atomi hanno grande libertà di movimento e quindi appena si determina una differenza di carica elettrica un accumulo di carica elettrica questa carica si distribuisce poi in tutta la sostanza in tutto il metallo il nostro corpo è anche un conduttore elettrico per cui quando teniamo in mano una posata e cerchiamo di elettrizzarla le cariche elettriche che stiamo trasferendo dalla lana alla posata per esempio scorrono via rapidamente in tutto il metallo e poi attraverso il nostro corpo e si disperdono a terra la differenza tra isolanti e conduttori elettrici è importante anche per capire che cosa sono i fulmini che sono un fenomeno elettrico fulmini si genera durante i temporali durante i temporali ci sono dei moti vorticosi in direzione verticale dell'aria e l'aria si strofina per esempio contro le nubi e proprio come la nostra plastica strofinata sulla lana le nubi si caricano di elettricità perché grandi masse d'aria li passano vicino strofinandole l'aria però è un isolante normalmente un isolante elettrico per cui non trasporta la carica elettrica ma quando nelle nubi si accumula una quantità sufficiente di carica elettrica e la tensione elettrica diventa fortissima improvvisamente l'aria diventa conduttrice e conduce proprio questa scarica elettrica rapidissima che è il fulmine infine va detto che anche noi funzioniamo grazie all'elettricità in particolare il nostro sistema nervoso comunica con tutto il corpo attraverso impulsi elettrici provate per esempio a prendere in mano un oggetto qualsiasi che avete a portata di mano bene oggi sappiamo che quello che è successo negli ultimi due secondi e che prima avete visto l'oggetto che significa significa che la luce riflessa dall'oggetto entrata nei vostri occhi e i vostri occhi tramite il nervo ottico hanno mandato dei segnali elettrici al cervello per dirgli guarda che stiamo vedendo l'oggetto a quel punto il cervello ha ordinato ai muscoli del braccio e della mano di andare a prendere l'oggetto e l'ha fatto trasmettendo ai muscoli dei segnali elettrici attraverso i nervi siamo quindi debitori in molti modi diversi alle forze elettriche della natura per oggi concludiamo qui con un grosso saluto in particolare alle persone ristrette della dozza e delle altre case circondariali dell'emilia-romagna a presto oggi parliamo di le rubriche di eduradio per il carcere e la città buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti su eduradio liberi dentro e siamo sempre in trasmissione con l'epida tv radio città fuggico e oggi abbiamo con noi massimo altomare che fino ad oggi proprio ha condotto una trasmissione che ci è molto piaciuta e che si chiama in out è una trasmissione che purtroppo vede oggi l'ultima puntata ma è momentanea questa decisione perché con massimo che saluto e ringrazio benvenuto ciao ciao grazie con massimo appunto chiacchiereremo appunto su questo argomento prima di tutto a sollicciano come stanno le cose perché faccio una parentesi voi tutti ricordate che massimo a sollicciano ha messo in piedi l'orchestra di stretta ci ha fatto sentire un sacco di brani e insomma il suo lavoro è proprio là dentro però vogliamo sapere lo stato dell'arte che ci racconti massimo allora è questo momento come potete immaginare non è che le cose vadano molto bene perché questo virus chiaramente questo questo omicron ha ricomplicato tutto cioè nel senso che sollicciano alla fine dell'anno scorso stava riaprendo in qualche modo avevo fatto in tempo a fare un paio di incontri con i detenuti e con le detenute poi però praticamente si doveva ricominciare a metà gennaio secondo diciamo le regole un po' di sollicciano le tempistiche loro cioè si comincia di solito un po' più tardi di quando comincia la scuola e purtroppo non è stato possibile che sapete bene basta un caso e che devono chiudere tutto quindi per il momento siamo fermi e devo dire questo purtroppo è anche uno dei motivi per cui io vi do un arrivederci vi saluto qui perché chiaramente non potendo andare dentro per io penso almeno per un altro minimo 21 giorni un mese e capite che non avrei nemmeno del materiale nuovo da proporre insomma quindi questa trasmissione avrebbe anche poco senso perché insomma molto senso se voi avete la possibilità di vedere di sentire i video dei musicali eccetera quindi per questo motivo sospenderei qui però per fortuna abbiamo due video oggi che non abbiamo mai visto quindi insomma intanto se tu se tu permetti magari presenterei il primo che è molto singolare e lo sentirete lo vedrete rispetto agli altri perché è un disco che è composto da due voci rappanti che sono un nigeriano e l'altro che è un tunisino e con sopra una base diciamo di musica elettronica composta da francesco giomi che è il direttore di tempo reale quindi sono una persona qualificata sa cosa fa e insegna anche musica elettronica a bologna tra l'altro quindi insomma è anche di casa nella vostra città e quindi c'è è venuto fuori questo esperimento devo dire che francesco giomi si è molto divertito a farlo ha preso queste due voci le ha cambiate le ha ne ha fatto ciò che voleva lui diciamo con l'autorizzazione ovviamente dei ragazzi e poi ha messo una base è venuto fuori questo pezzo secondo me secondo me molto affascinante appunto che si chiama rapatua questa parola che è uscita dalla dalle labbra di uno dei due rapper quindi penso che sia interessante vedere anche le possibilità che le varie quante possibilità ci sono quando si può fare dell'arte musicale quando non si pensa solo al mercato quando non si pensa solo a vendere quando non si pensa solo a far carriera andare agli sfaturi a far televisione eccetera 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 con la musica si possono fare cose che apparentemente incredibili e cioè che un musicista di musica elettronica preclaro come gioco giomi possa dialogare con due detenuti che rap in una cella ecco questo lo trovo straordinario infatti straordinario e il pezzo è straordinario perché la base elettronica è veramente incredibile e poi anche le voci dei due sono veramente in armonia con il tutto senti ma il titolo che cosa significa allora il titolo è una è una sorta di nenia il titolo di una nenia nigeriana che questo che questo che gli ador questo carepava ha cominciato è venuto all'inizio così tutto assolutamente improvvisato e quindi poi era molto essendo molto bello abbiamo abbiamo tenuto questo titolo va bene allora ascoltiamola subito è Rappar too high, mariah too low Rappar too high, mariah too low Call out my dogs, put them out of my door Spending the dogs, just like a boss I get in the dust, just like a boss The boss time never stops, even when I'm locked down So I'm balling with my G's, all my tools we do We never give it up, cause I'm calling with a G Rappar too high, mariah too high Bappar too high, mariah too high Uwe museum sing withШans Michelin Rappar too high, mariah too high Uwe museum is a cook of food, hot, even if Mama We're in theоже doing one dessert e le persone che hanno accettata in chat il difusione delle parole ma i più quali che vieni entro l'ambino non ti hanno chastrullo ma lei ci sono BI L'Ani Zolo L'Ani Zolo L'Ani Zolo La Boss Siamo arrivare Ma come mai Ma come mai Ma come mai L'Ani Zolo Buongiorno a tutti 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 Buongiorno a tutti